Salve a tutti amici youtube, sono Yavatalkurama Oggi vi porterò Una breve illustrazione del gioco, come fatto e tutto, di Illusion Prima di tutto vi faccio vedere questi due personaggi Ne sono pochissimi, però tutti sono forti e utili Ci sono le fazioni, le rarità e le classi Partiremo subito dalle classi Qui ci sono le debolezze delle classi Queste non vengono counterate E vi spiegherò anche i personaggi principali che vi daranno Prima di tutto i personaggi principali che vi daranno è Nina, Zaya e Vittoria Sono tre R che lei potrebbe diventare un SSR Ed è... e ho notato che fa tanti danni, sinceramente Lei è un Guardian Quindi è un personaggio che fa tipo una provocazione Che vi manda gli attacchi verso di lui Di lei E poi c'è lei che è un SSR che fa un certo danno ad aria Alcuni fanno proprio un danno full aria e alcuni no Passiamo... allora, prima di tutto Attacker è la classe con il maggior danno burst Tipo lei è una dei maggiori danni burst perché fa molti attacchi Per dirvi Fa molti attacchi e attacca veramente ma veramente tanto Fa... Per la sua passiva che lui... Lei fa... Lei... Con la sua skill La sua special Attacca un singolo nemico And daily attack 162 damage Questa è la cerco tantissimo perché è fortissima Perché fa molti... Molte volte fa molti hit sto personaggio se vuole E questa è la sua passiva Un attacco singolo a un nemico Attack 400% di danno Ace 80% Asa 80% 25% chance di trittare 1-hit 2-hit Combo daily Combo daily 135% 100% damage Costa 12 Si è una classe attacker Questa è una delle più forti secondo me Fa il danno burst Più forte del gioco Secondo me Però anche lei non scherza Infatti i danni Poi passiamo alla Classe dei guardiani Che alcuni guardiani Se lo posso dire Hanno la capacità di fare Come posso dire Reflection Cioè danni Alcuni danno una vita in più Alcuni danno Curano E alcuni provocano Per esempio Lei e lei Quelle che ho Provocano Questo Riflette Quindi che significa riflettere Che se lui attiva la special Se lui viene attaccato da qualcuno Riflette il danno Quindi è tipo Come se tu stessi attaccando te stesso In quel senso Potrei spiegarvelo E poi ci sono loro Lei e lei Che danno una mini barriera Per aiutare il vostro Master Potremmo chiamarlo Gli da una vidina in più Poi c'è l'healer L'healer sapete Quello che fa Cura gli alleati E il master Lei È una delle tante Che uso Perché Cura Però lei Non lo so Qual è la più forte Però lei Queste sono Tutte quell'oro Che curano Non hanno un counter Però prendono le botte Parecchie botte Poi c'è i light Light è una Sottospecie di debuffer Barra Un debuffer ad aria Come lei Lei Non mi pare che debuffi Però la sua special È È un attacco Attacca un singolo Enemy Quindi Attacca molto Poi contate Che avete le stelle Tranquilli Troverete tante Copie di ogni personaggio Che ve lo potenziate A tutte le stelle Tranne gli SSR Ve lo dico io Poi ci sono i sorcerer I sorcerer sono Quella classe Che fanno Sia danno ad aria Che danno Molti Sorcerer fanno danno ad aria Come lei 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 fa un danno ad aria Non proprio Full aria Ma di meno Lei fa full aria E Alcuni non le conosco Lei Lei fa parte Del gioco Dell'anime di Sì Ok Ci sta C'è stata anche una Crossover Stiamo notando Va bene Alcuni fanno danno ad aria Sono molto forti Poi ci sono gli spell Gli spell fanno danno ad aria Alcuni Stannano Alcuni Tolgono la barra Del nemico Per fargli lanciare La special E alcuni Fanno danni Però comunque Sono forti Metteteli sempre Poi ci sono i summoner Che Alcuni con le special Lanci Evocano dei pupi In più Alcuni quando muoiono Evocano i pupi Tre pupi alla volta O due Come lei o lei Lei quando muore Ne crea tre Quando lei muore Ne crea Sia lei che lui Se no C'è lei che Fa Quando attacca Ne evoca due a botta Se no Lei che ne crea Tanti Molto forte Poi ci sono Le debolezze Gli spell Sono Tipo Spell vince contro i light I light vince contro i spell Gli attacker vince contro i sorcerer I sorcerer vincono contro i guardian E i guardian vincono contro gli attacker Poi ci sono le fazioni Le fazioni di ogni personaggio Che cosa sono le fazioni Non lo so nemmeno io però Ogni fazione ci stanno i personaggi Tipo che ne so Liber Liberos Ci sono loro Poi c'è il Machipula Che ci sono le Tre R Che ci daranno Poi c'è la Fenice Che ci sono Bei personaggi Potremmo dire che è anche un Semi azzurlane Con le varie fazioni Dei personaggi Vedi C'è la seed C'è questa E questa Questa credo che ci sia Tutto il mondo nipponico Come si nota Vedete E poi c'è L'Uroboros Che è tipo Una cosa Simile egiziana Sto notando Creature egiziane Creature Mitiche Poi vabbè Ci sono le rarità E ragazzi ve lo dico Le R sono veramente rotte Alcune R Le sto provando Sono fortissime Poi ci sono Le SR E c'è Le SSR Che ne sono di più Spero che il video Vi sia piaciuto Ragazzi Commentate E iscrivetevi E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi